Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con un ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più brutti, bentornati su GIOVISPO Io sono GIOVISPO e questo è il video di un altro contest da 100.000 crediti Credo di fare alcuni contest giornalieri da 100.000 crediti per PlayStation 3 e PlayStation 4 Per partecipare, essere iscritti al canale, dovete mettere mi piace al video, condividere il video dove volete su Twitter, Google+, dove volete voi Poi scrivere partecipo con un numero da 1 a 400 Quindi, ripeto, mettere mi piace al video, condividere e scrivere partecipo con un numero da 1 a 400 Dunque, l'estrazione la farò fra 24 ore e rimanete sintonizzati sul canale Ciao!